Le cose sono state già dette in buona parte di principio, sia da me e ancora meglio dal Presidente poco fa nelle interviste qui all'esterno, ma riprendiamo il percorso e anche più dettagliatamente poi da parte dei nostri dirigenti, la dottoressa Roberta Maestri e il dottor Massimo Rocchi che sono qui con noi, il dottor Terzoni è fuori per impegni personali, altrimenti sarebbe stato qui come del resto tutto il nostro staff del servizio lavoro e formazione. Comunque sia, molto semplicemente, stamattina noi presentiamo il piano regionale triennale delle politiche attive 2024-2026. È un piano triennale che non è più stato redatto da oltre dieci anni, fino ad ora negli anni addietro si facevano piani annuali, ovviamente altrettanto validi, ma in cosa mancavano questi piani? In una programmazione è una certezza anche di proseguio di tutti gli enti, diciamo così, che operano intorno al mondo del lavoro. Se prendiamo tutti gli enti formatori, gli ITS, avevano piani annuali, quindi non potevano mai programmare effettivamente nella media scadenza le loro attività e quindi mancavano di certezze. Quindi un piano triennale è fondamentale, rimetterlo in campo dopo tanti anni, oltretutto è un piano molto molto cospicuo di finanziamenti, grazie a fondi ovviamente europei, oltre che statali e regionali, e grazie anche a fondi PNRR. Faccio un solo esempio, molto significativo, per quel che riguarda gli ITS, che sono le fondazioni, le nostre quattro fondazioni, la nostra regione Marche, che quest'anno in aumento rispetto agli anni addietro stanno portando avanti attualmente 15 corsi formativi, con i nuovi finanziamenti in aumento di 16 milioni di euro, il prossimo anno ne stanno proponendo 25, cioè quasi un raddoppio delle loro attività. Quindi grazie a questo piano triennale, che nasce dopo una lunga concertazione da parte mia, del mio assessorato, ma di tutti i tecnici del mio assessorato, che ha girato il territorio, ha incontrato le imprese, le associazioni, i sindacati, ha cercato di carpire e di capire nel miglior modo possibile le esigenze delle imprese, ha cercato di capire come mai mancasse questo contatto tra le esigenze che le imprese hanno di personale e le tante persone che cercano lavoro e non lo trovano. Evidentemente non c'erano quelle predisposizioni, diciamo così, da parte di chi cerca lavoro, le capacità di interagire direttamente con le imprese. Su questo abbiamo cercato di incanalare anche all'interno di questo piano tutta una serie di azioni, di corsi di formazione, di corsi di formazione anche inediti ed innovativi, dove alla fine del percorso c'è una certezza di occupazione, proprio si chiamano corsi di formazione a occupazione garantita, per far sì che tutti questi fondi, tutte queste capacità, diciamo così, di investimento possano dare il miglior risultato possibile. È stata, ripeto, una fase di concertazione durata molti mesi, si è arrivati a questa elaborazione. Noi stiamo assistendo in questa fase post-Covid, con tutte le difficoltà che ricordavo poco fa anche il Presidente, siamo in mezzo a due guerre, siamo in mezzo a un impazzimento dei prezzi delle materie prime e così via, eppure abbiamo visto nelle Marche una crescita di occupazione e di PIL nel 2022, una difficoltà un pochino più evidente proprio nel corso attuale del 2023, anche se le previsioni predispongono una fase migliore per il 2024. E proprio in questo momento abbiamo immaginato che serviva proprio una forte spinta, una forte spinta di attività, di attività di formazione, di presa in carico di chi ha difficoltà, difficoltà anche, diciamo così, proprie, come se pensiamo a chi ha difficoltà, diciamo così, di disabilità, eccetera. Con questo forte investimento noi ci proponiamo anche una forte collaborazione col settore privato, ad esempio le agenzie private per il lavoro sono pienamente integrate in molti di questi percorsi, nel percorso GOL, Garanzia Occupazione al Lavoro, ma anche nei percorsi formativi. La gran parte dei corsi di formazione li inseriamo nel cosiddetto percorso duale, cioè dove si fa attività teorica all'interno di aule, ma si fanno altrettante ore all'interno delle imprese stesse, in modo che alla fine del percorso si sia già afferrati proprio nel proprio posto di lavoro. e lo stesso datore di lavoro, magari per molti mesi, anche per un anno, eccetera, ha conosciuto direttamente la persona, quindi ne ha direttamente preso la propria fiducia, conosciuto dal punto di vista proprio anche personale, e questo spesso porta poi a garantire alla fine del percorso un'occupazione molto più probabile e quasi molto spesso sicura. Si è intervenuti molto anche sulla creazione di impresa, proprio in queste ore c'è una commissione che sta esaminando l'attuale bando che si è concluso proprio da tempo fa, sono arrivate oltre mille domande, quindi vuol dire che c'è una forte vivacità nel tessuto sociale regionale di tante persone che intendono aprire una propria attività, ovviamente non tutte verranno finanziate, c'è una commissione che le sta valutando, anche su questo noi cerchiamo di investire molto anche per la prospettiva, perché vediamo che questi percorsi di creazione di imprese anche agli anni addietro, dopo tre anni dalla loro creazione, il 90% dell'impresa è ancora attiva, quindi è anche in questo caso un dato molto molto positivo. Quindi ecco, è un forte incalzare diciamo così il mercato del lavoro, andando incontro alla domanda offerta dell'impresa e cercando un'altra fase molto importante, poi concludo, quella proprio di muovere un po' il cosiddetto mercato del lavoro. Ci sono molte persone inattive, i cosiddetti NIT, tante persone che un po' scoraggiate, non so per quali altri motivi, non lavorano, non frequentano i nostri centri per l'impiego, non studiano, non frequentano i nostri corsi professionali. Ecco, queste persone vanno fortemente stimolate, tant'è che ci siamo proprio presi in carico attraverso il progetto Goal, dove ci sono 97 milioni di investimenti di fondi europei nel triennio, quindi è una delle voci maggiori. Noi chiamiamo uno per uno queste persone inattive attraverso i nostri centri per l'impiego, li mettiamo in contatto con le agenzie interinali e con i soggetti formatori, capiamo uno per uno quelle che sono le loro particolarità, le loro esigenze, le loro predisposizioni, la loro preparazione e a secondo, proprio singolarmente, caso per caso, chi ha bisogno di un corso di formazione, viene inserito in un corso di formazione, chi ha bisogno di un'altra tipologia di corso, magari più breve, lo fa direttamente in azienda, magari più breve, chi ha già una propria preparazione, una propria predisposizione, viene inserito attraverso anche le agenzie private alla ricerca proprio dell'occupazione. Questo è uno sforzo molto, molto grande che stiamo facendo, io sono molto fiducioso, che darà seri frutti da qui ai prossimi mesi. Quindi ecco, è una grossa novità questa cosa di un piano triennale, ripeto, non si portava avanti da dieci anni e questo supera un po', non dico l'improvvisazione perché non si è mai fatto nulla improvvisando, però quando si fanno piani annuali hanno poi il fiato corto, magari già l'anno successivo erano un po' cambiate le esigenze, eccetera, non si capiva bene come procedere. Qui invece si predispone un piano triennale dove i percorsi possono iniziare a crescere e concludersi appunto nell'arco di un triennio. Speriamo, siamo fiduciosi di vederne frutti molto positivi. Io però quindi fermo perché poi credo che i miei dirigenti, i nostri dirigenti, vorranno entrare un pochino più dettagliatamente nelle situazioni, sia dal punto di vista appunto di chi segue come Roberta Maestri, tutte le situazioni legate al Centri per l'Impiego, politiche attive, e Massimo Rocchi per quei che invece segui tutte le situazioni legate alla formazione professionale. Chi inizia? Ecco. Allora, volevo innanzitutto partire dal piano, dalle risorse mobilitate in questo triennio del piano triennale lavoro e formazione. Come anticipato l'assessore parliamo di 350 milioni di euro che sono già superiori a tutte le risorse che erano mobilitate nel passato periodo di programmazione che era un settennio, quindi 2014-2020 aveva una montagna di risorse inferiore a quelle che noi attiveremo sul triennio di vigenza del piano. Qui vedete come sono ripartite sulle linee di finanziamento, ovviamente la FADA padrona il nuovo programma operativo SFSE Plus 2021-2027, poi abbiamo 27 milioni di euro sul POC, il programma operativo complementare che proprio in questi giorni sta arrivando alla sua definizione conclusiva per poi partire con le misure. Il PON Donne Giovani Lavoro è un programma operativo nazionale che in parte sostituirà il programma garanzia giovani e quindi avrà come destinatari privilegiati sia i NIT sia le donne e più in generale a questo appunto gli OVAR. Poi abbiamo il GOL con 95 milioni di euro, il duale, gli ITS, lo stesso anticipato dall'assessore, e il piano regionale dell'azione di politica attiva 20 milioni di euro e qui parliamo della riprogrammazione delle residui degli ammortizzatori sociali dal 2015 al 2018. Abbiamo la possibilità di riprogrammare quei requisiti in azioni di politica attiva, quindi un complesso di risorse molto ingente, 350 milioni. Se vedete il confronto fra le risorse del periodo del settennio precedente, le risorse di questo settennio, vedete che come vi dicevo sul 14-20 avevamo 227 milioni di euro, quindi un 50-40-30% in meno rispetto al triennio 24-26, quindi è inferiore addirittura al triennio. Nel confronto invece fra il periodo di programmazione 14-20 e il nuovo periodo di programmazione 21-27, vedete che le risorse sono ben 210 milioni di euro di più su tutte le linee che riguardano esclusivamente lavoro e formazione. Sapete che l'FSI in realtà poi comprende altre misure che sono quelle delle politiche sociali, questo è un confronto sulle materie che sono oggetto del presente piano. Come si diceva prima, la normativa di riferimento per l'adozione di questo piano triennale. Erano tanti anni che non veniva redatto un piano triennale, l'ultimo è il 2012-2014 ed era un piano integrato con le attività produttive. Quello precedente, solo lavoro e formazione, è del 2007-2009, e quindi abbiamo sentito, l'amministrazione ha sentito l'esigenza di dare un quadro strategico proiettato nel futuro anche per definire uno scenario verso cui va la programmazione e la politica regionale. Articolo 3 della legge sul lavoro prevedeva la redazione del piano triennale che adesso stiamo mandando per l'approvazione in consiglio. Questo piano poi avrà delle declinazioni annuali che si chiamano programmi annuali, che entrano nel dettaglio delle misure, dei beneficiari, dei criteri di selezione. La strategia regionale alla base del piano ha tre obiettivi strategici. Primo, ovviamente migliorare l'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di coloro che ne sono distanti, con priorità, vedremo dopo, per alcuni target specifici. Promuovere la cultura del lavoro di qualità. Non basta creare lavoro, bisogna creare lavoro soprattutto per i giovani, evidenziando il valore della dignità e della qualità di qualunque lavoro poi il giovane si metta a seguire nella propria carriera professionale. Potenziare i servizi per l'impiego e l'integrazione pubblico-privato. Questo è importante perché, come diceva anche l'assessore Aguzzi, grazie al programma Goal abbiamo messo in campo una strategia di incrocio domanda-offerta a cui partecipano non soltanto i centri per l'impiego pubblici, ma anche i privati, agenzie per il lavoro, enti di formazione. Importante per l'inserimento e reinserimento un raccordo costante fra queste due componenti che lavorano sul lavoro. Sono questi quattro target verso cui si dirige, ovvero la strategia regionale è rivolta a tutti coloro che sono distanti dal mercato del lavoro, migliorarne l'occupabilità, ma sono quattro i target specifici verso cui prioritariamente si dirige. Sono i giovani in it, le donne, i soggetti in età avanzata, li chiamiamo i cosiddetti over, vicini alla pensione ma ancora non hanno maturato i requisiti per il pensionamento, in una fase avanzata della loro vita si trovano purtroppo fuori del mercato del lavoro con difficoltà a reinserirsi. Le persone con disabilità, questi sono i quattro target del nostro piano. Le politiche riferite ai target, sui giovani in it ovviamente le azioni saranno focalizzate sulla formazione, l'orientamento, tutte quelle sono chiamate le cosiddette work experience, cioè tirocini, extracurriculari, borse lavoro, borse di ricerca se parliamo di laureati, borse tematiche stanno partendo proprio in questa fase della programmazione dell'assessorato, le cosiddette botteghe scuola, incentivi alle assunzioni ma anche creazione di start-up innovative. Donne, secondo target, già abbiamo lavorato molto sul target donna con i programmi annuali, cioè prima di redigere questo programma triennale. È di questi giorni la presentazione in giunta ad esempio di un intervento che si chiamerà cosiddetto intervento family friendly, cioè quegli interventi con cui le imprese redigono e realizzano piani aziendali per migliorare il benessere lavorativo e consentire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ma lavorare anche sulle competenze. E' vero che emerge dall'analisi di contesto una maggiore difficoltà delle donne nell'accesso al mercato del lavoro anche perché non sono ne laureate nelle cosiddette lauree STEM, cioè le lauree delle tecnologie o digitali. I soggetti over, vi dicevo prima, coloro che molto spesso anche in conseguenza di una crisi aziendale si trovano fuori del mercato del lavoro. Incentivare il loro reinserimento attraverso misure specifiche. Persone con disabilità. Su questo fronte un percorso dedicato del programma Goll che si chiama lavoro e inclusione è dedicato proprio a coloro che hanno dei cosiddetti bisogni complessi, cioè non soltanto degli ostacoli di formazione, di competenze nell'accesso al mercato del lavoro, ma bisogni complessi che vanno anche riguardano la sfera familiare o addirittura delle disabilità. Un intero percorso che partirà nelle prossime settimane del programma Goll sarà dedicato appunto a questo target di persone che sono i più distanti dal mercato del lavoro. Ma anche, a valere sempre sul piano, la programmazione delle risorse del cosiddetto fondo regionale disabili, ovvero quelle risorse che derivano dalle sanzioni date alle imprese perché non assumono, quindi non rispettano la quota disabili nei propri contingenti, devono pagare delle sanzioni e queste sanzioni vanno a confluire nel cosiddetto fondo regionale disabili che attualmente è pari a oltre 2 milioni di euro che verrà attivato con dei bandi nel 2024. Queste sono le aree di intervento, ovvero a prescindere dai target la strategia si focalizza su queste aree di intervento, l'orientamento, la formazione che deve essere vicino all'esigenza e ai fabbisogni del tessuto produttivo, quindi non una formazione generalizzata, ma corrispondente alle esigenze che emergono dalle piccole e medie imprese del territorio, la promozione della cultura dell'imprenditorialità e vedremo poi come, il sostegno, gli incentivi alle imprese per un'occupazione di qualità, la formazione on the job, le competenze, il sostegno alle crisi aziendali e questa trasversalmente più che un'area di intervento io la definirei una priorità trasversale che si muove all'interno di tutte le aree di intervento e poi vi dirò come, la sicurezza sul lavoro e l'emersione del lavoro irregolare. Quando parlo di formazione vicina ai bisogni delle imprese, ovviamente poi c'è anche il collega Rocchi che aggiungerà qualcosa al riguardo, questa è un'esigenza che abbiamo sentito anche nel programma Goal che ci ha richiesto l'attivazione di patti territoriali, cioè il valore della concertazione sui territori per far emergere quelli che sono effettivamente i bisogni del tessuto produttivo. Ma oltre a questa, in questi giorni è passata in commissione regionale lavoro un intervento, una proposta di intervento che riguarda l'istituzione di scuola di formazione delle professioni e dei mestieri in alcuni settori, sono il turismo, il commercio, l'artigianato, la manifattura e grazie al lavoro integrato di più soggetti. Promozione della cultura dell'imprenditorialità. Come diceva l'assessore, il nostro è un tessuto produttivo molto vivace e quindi l'abbiamo sempre sostenuto con una serie di incentivi, sia nel vecchio periodo sia nell'attuale periodo, che hanno poi registrato tassi di partecipazione ai bandi molto, molto elevati. In questo periodo di programmazione abbiamo delle novità rispetto al passato, quindi non parleremo più soltanto di creazione di impresa ordinaria, io la chiamo ordinaria per dire che noi aiutiamo i disoccupati a creare impresa in tutti i settori economici con l'esclusione dell'agricoltura, ma accompagneremo questo cosiddetto strumento ordinario con altri interventi di nicchia. Uno è quello delle start-up innovative, ovvero la creazione di impresa nei settori della cosiddetta strategia di specializzazione intelligente delle marche, cioè si incentiverà la creazione di impresa da parte di giovani qualificati e laureati. Un'altra declinazione è il workers buyout, anche questa è un'esigenza che emerge spesso nei tavoli delle cosiddette crisi, quindi andare a sostenere i lavoratori che fuoriescono da crisi aziendali sostenendo la creazione di cooperative, di soggetti che fuoriescono e che magari decidono di realizzare un'attività similare a quella che è stata chiusa. Il ricambio generazionale, anche questo è una priorità di questa amministrazione perché creare nuove imprese consente anche di andare a sostenere, a supportare il trasferimento di impresa e i passaggi generazionali fra vecchio e nuovo. Borse, qui parliamo delle borse lavoro, borse di ricerca e borse tematiche. sono interventi cosiddetti work experience, cioè iniziative di accompagnamento al lavoro formativo professionali on the job, è un metodo di apprendimento basato cioè sull'esperienza sul campo. Abbiamo anche in questo caso più declinazioni, le borse lavoro sono di norma create per supportare i passaggi nell'inserimento al mercato del lavoro dei cosiddetti over, ricerca sono per i laureati, quello che vi dicevo prima, le botteghe scuola invece sono interventi sempre on the job dei giovani under 35 che si cimentano nei cosiddetti mestieri dell'artigianato artistico e tipico che stanno scomparendo, i tirocini extracurriculari. Tornando indietro, queste azioni sono solo alcune delle azioni riferite ad alcune delle aree di intervento, come vi dicevo prima, avranno delle priorità. Una di queste è la programmazione territoriale sui borghi. Sui borghi ci saranno delle priorità sia per la creazione di impresa, sia per le borse lavoro, sia per altri interventi che immobiliteranno risorse del POR FSE per circa 40 milioni di euro. Ovviamente è una strategia che va nella direzione di evitare lo spopolamento di questi territori, di sostenere la ripresa delle attività anche da parte di giovani nei territori che appunto soffrono dello spopolamento. Principi cardine, andiamo sulle procedure di attuazione, abbiamo finito la ricostruzione della strategia, andiamo sui principi cardine. Il valore della profilazione. Profilazione è un concetto che abbiamo visto per la prima volta nel programma Goll. Cosa comporta la profilazione? comporta che i centri per l'impiego regionali, una volta che un disoccupato accede ai loro uffici, profilano il disoccupato, gli fanno la cosiddetta attività di assessment, valutano il grado di minore o maggiore distanza dal mercato del lavoro. E grazie alla profilazione non programmiamo più interventi generalizzati e standardizzati per chiunque. Misure del lavoro, misure della formazione ad hoc, mirate, personalizzate per la tipologia di disoccupato, ovvero per il giovane, se laureato o meno, per colui che ha un bisogno complesso, quindi graduando questa distanza dal mercato del lavoro si costruiscono percorsi personalizzati di inserimento lavorativo. L'approccio multidisciplinare, quando prima vi parlavo dei bisogni complessi, di una parte, di un target di popolazione disoccupata che è molto distante dal mercato del lavoro, non bastano i centri per l'impiego, non bastano le agenzie del lavoro, bisogna interagire anche con altri soggetti che sono gli ambiti e il cosiddetto terzo settore. Il valore di costruire misure integrate a cui partecipano tutti questi soggetti sul mercato del lavoro. Raccordo pubblico privato era quello di cui vi parlavo prima, cioè una governance delle politiche, del lavoro e della formazione che non dipende più soltanto dal pubblico ma poggia su un forte raccordo e cooperazione fra soggetti pubblici e privati. Integrazione interna e esterna, quando parliamo di Goal, quando parliamo di Porfse, di POC, cosa vuol dire approccio integrato? Vuol dire evitare sovrapposizioni di interventi che sono la principale causa dei disservizi ma anche delle risorse che sono male programmate, costruire misure che vengono finanziate con singoli fonti di finanziamento, non sovrapporre, non cumulare, ovvero andare a finanziare magari differenti target di beneficiari con differenti programmi di finanziamento. Complementarietà, è quello che vi ho detto ora, è il valore della concertazione socio-economica. tutto questo processo è regolato e presidiato dalla concertazione con il territorio. Quando si arriva ai piani Porfse, quando si arriva a un piano triennale come questo, la concertazione sul territorio con tutti coloro che partecipano alla pianificazione delle politiche è assolutamente necessaria. Quindi, il comitato di sorveglianza, la commissione regionale lavoro, tutti coloro che lavorano su queste politiche nel nostro territorio regionale. Stiamo arrivando alla fine, tempi e modi della programmazione. Vi dicevo, questo è un programma triennale che è volutamente alto, alto nel senso che delinea la strategia ma si lascia dei margini di flessibilità perché è in questi margini di flessibilità che poi lavorano i programmi annuali. L'importante è che questo triennio si va ad allineare proprio al periodo più intenso della programmazione europea 2021-2027. Il triennio 24-26 sarà quello della grande mobilitazione delle risorse regionali del POR e del POC. È una programmazione che deve essere funzionale a migliorare l'incrocio domande offerte sul mercato del lavoro ma anche a stimolare la capacità progettuale. La semplificazione delle procedure. Importantissimo nel nuovo POR FSE è il fatto che vengono redatti bandi pluriennali evitare l'attivazione di procedure della durata di solo un anno modo da garantire anche al territorio la conoscibilità degli interventi che vengono attivati nel prossimo triennio. Quindi bandi pluriennali con finestre temporali predeterminate. L'utilizzo delle opzioni di costo semplificato. Forse questo è un tecnicismo che non tutti conoscono. la programmazione europea privilegerà l'utilizzo di opzioni di costo quindi somme forfettarie tassi percentuali piuttosto che la rendicontazione dei costi che è sempre molto complessa per coloro che partecipano agli acquisiti. ho finito e ovviamente se ci sono domande sono a disposizione. Ovviamente cioè no pensavo che prima ci fossero le domande. Diciamo così ci siamo anche le domande e le domande sono le domande sono le domande e le domande sono le domande Sì sarò più breve della collega maestri perché molte cose sono state dette e evito di ripetermi. Volei però fissare l'attenzione su due concetti perché nasce questo piano triennale perché noi ci troviamo in una situazione diversa rispetto al passato nel 2030 molti dei mestieri oggi presenti nel mercato del lavoro subiranno una profonda modifica alcuni mestieri non sappiamo neanche come si chiameranno i nostri giovani i più giovani di oggi faranno un mestiere di cui non si conosce il nome e le competenze ecco l'altro tema quindi questo è l'evoluzione del mercato del lavoro e il secondo tema delle competenze nel 2023 l'anno europeo delle competenze quindi la regione Marche ha ritenuto giusto fare una programmazione pluriannale proprio per cercare di fare un esercizio anche di previsione di quale possono essere le esigenze che il mercato del lavoro potrà avere da qui al prossimo futuro e concentrare l'attenzione sulle competenze perché le competenze perché le competenze stanno in evoluzione le competenze richieste dal tessuto produttivo locale dalle nostre imprese è in evoluzione e quindi ecco questo piano pluriannale di tre anni che poi troveranno attuazioni con il piano annuale va dietro le linee guida a livello europeo e anche quello che è lo scenario che stiamo che stiamo vivendo perché la formazione e le altre politiche attive del lavoro possono dare una risposta la formazione professionale di cui le regioni sono competenti hanno la possibilità di adeguare di fare un esercizio di adeguamento in fase di apprendimenti forse più veloce più snello rispetto ai percorsi scolastici dove i programmi sono fissi sono bloccati lo sappiamo la formazione professionale ha questo elemento in più io penso che se noi riusciamo a cogliere questo aspetto questo può essere vincente per poter dare una risposta alle nostre imprese perché poi alla fine imprese e soggetti che oggi non trovano lavoro perché sono due soggetti che noi dobbiamo con cui dobbiamo interloquire sono le imprese da una parte e dall'altra i soggetti i nostri giovani in particolare che hanno necessità di trovare un'occupazione noi dobbiamo fare questa azione di mismatching e quindi andare incontro a queste esigenze ecco perché il nostro piano tiene in considerazione l'aspetto della complementarietà perché per la prima volta ci troviamo ad utilizzare molti fondi europei come in passato per quanto riguarda le politiche attive della formazione il fondo sociale europeo ma oggi è importante anche la presenza del PNRR gran parte delle risorse del PNRR hanno una gestione a livello statale ma ci sono delle risorse importanti che vengono calate alle regioni proprio per fare queste politiche attive della formazione quindi ecco noi stiamo mettendo insieme queste importanti risorse ecco perché arriviamo agli importi di cui prima abbiamo parlato e quindi dovremmo fare molto attenzione a fare una programmazione che concili queste risorse ed essere poi pronti una volta che termineranno le risorse del PNRR ad essere in grado a sostenere i livelli di formazione di politiche attive che nel frattempo sono andati a costituirsi a crearsi perché sull'offerta formativa stiamo ampliando molto il numero di corsi e il coinvolgimento dei destinatari prima l'assessore ha parlato degli ITS abbiamo 16 milioni sull'offerta formativa e poi ce ne sono altri 6 milioni circa per i laboratori per finanziare i laboratori di queste scuole di alta formazione che vi ricordo hanno una caratteristica molto particolare quella di mettere insieme gli enti di formazione le università e direttamente le imprese con le associazioni di categoria quindi che significa questa una progettazione formativa condivisa e una partecipazione all'interno dei percorsi formativi direttamente da chi viene nel mondo del lavoro più del 50% dei docenti sono imprenditori classe quadri delle imprese quindi ecco qui la fattiva collaborazione su questi percorsi sicurezza abbiamo anche un importante tema in materia di sicurezza sul lavoro anche in ambito della formazione l'INAIL ci ha prospettato una particolare esigenza che va incontro appunto ai tanti cantieri che si stanno mettendo in campo con il PNRR la necessità di aumentare le competenze anche di chi lavora in questi in questi cantieri e quindi un supporto ha chiesto l'INAIL un supporto da parte delle regioni di andare a formare anche oltre l'offerta obbligatoria in tema di sicurezza determinati settori coinvolti in queste opere e quindi andremo anche qui ad integrare le risorse che ci metterà a disposizione INEIL con le risorse comunitarie un ultimo passaggio le accademi aziendali le accademi sono un tema importante in questa logica e strategia generale stiamo facendo sorgere all'interno delle aziende delle scuole che possano appunto colmare quel gap di competenze direttamente creandole direttamente all'interno dell'azienda in modo tale che i nostri giovani possono sin da subito comprendere l'ambiente di lavoro il tema della cultura del lavoro e quindi incrociare quelle esigenze di cui vi dicevo prima poi ci sono delle domande siamo a disposizione grazie ma credo che siano stati sostanzi giustivi Presidente poi prego solo per ringraziare i nostri uffici ringraziare te e tutto l'assessorato per questo lavoro importante svolto come dicevamo prima siamo davanti a una fase molto importante di trasformazione del mercato del mondo del lavoro anche della società e la trasformazione della società del mercato del mondo del lavoro deve farci trovare pronti e quindi un'offerta così variegata di opportunità è una strategia che sicuramente riesce a raccogliere tutte le esigenze che ci vengono sottoposte chiaramente sarà fondamentale riuscire a comunicare bene tutte queste iniziative sarà fondamentale cercare di rendere il più possibile fruibile queste opportunità con una giusta campagna informativa cercando di burocratizzare al massimo quelle che sono le procedure che dovranno essere messe in atto e dall'altra parte continuare sempre di più non è quello di oggi il caso però continuare sempre di più a puntare sulla formazione perché la formazione è l'elemento di rimente che metterà in condizione sia le imprese di avere la possibilità di avere pronti le maestranze e le opportunità di lavoro dall'altra parte anche i nostri giovani soprattutto i nostri giovani di essere in grado di affrontare le sfide future i nostri giovani ma non solo i nostri giovani giusto anche un richiamo sulla sicurezza sul mondo del lavoro perché oggi più che mai credo che sia inconcepibile quelli che sono brutte notizie di cronica che ancora troppo spesso continuano ad essere presenti credo che il lavoro che dà dignità che dà dignità e porta anche forza autorevolezza e consapevolezza delle proprie opportunità non debba mai essere associato alla cronaca perché la sicurezza deve essere sempre di più un elemento che mette a riparo i soggetti appunto da ogni imprevisto quindi ecco anche questo punto credo che sia un punto che deve essere tenuto sempre di più in forte considerazione su questo chiaramente sto esulando da anche quello che è il piano però credo che su questo l'impegno delle istituzioni e l'impegno della regione sia in massimo e debba essere sempre di più in questa direzione grazie 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 grazie